Ho creato un kit incredibile per risolvere definitivamente il problema della muffa a casa. Ciao, sono Mauro del Marini Pro Worker ed ormai da anni ci occupiamo di risolvere i problemi di muffa con la pittura termica Atria. Adesso ti spiego quali prodotti ti servono per creare il ciclo termico e risolvere i problemi definitivamente di muffa a casa tua. Il ciclo termico è composto da tre prodotti, igienizzante, primer e pittura. L'igienizzante permette la sanificazione della parete da muffe e batteri. Il primer prepara il fondo per poter poi pitturare con la pittura termica atria termica. Per poterti aiutare a scegliere gli utensili adatti ho creato un kit composto da questi utensili. Pennellessa, telo copritutto, rullo specifico, pennello per le parti angolate, nastri e importante il mescolatore che servirà per girare spesso la vostra pittura perché dato che è formata da microsfere di ceramica tenderanno a depositarsi. Con questo mescolatore le terrete sempre in sospensione. Puoi acquistare tutto il kit che abbiamo creato per 40 metri quadri o 80 metri quadri oppure semplicemente i singoli prodotti che trovi nei link in descrizione.